La crisi c'è ma non per tutti. È il caso di Kolf, Badanti e Babysitter, un vero e proprio boom occupazionale nell'ultimo decennio. Il numero di collaboratori familiari in Italia è passato infatti da poco più di un milione nel 2001 all'attuale 1.655.000, per una crescita dunque superiore al 50%. E secondo quanto stima il Censis, mantenendo stabile il tasso di utilizzo dei servizi da parte delle famiglie, il numero dei collaboratori salirà a 2.151.000 nel 2030, circa 500.000 in più. Sono 2.600.000, il 10,4% del totale, le famiglie che hanno attivato servizi di collaborazione, di assistenza per anziani o persone non autosufficienti e di babysitting. Famiglie che oggi, oltre agli sgravi di natura economica, chiedono una maggiore semplificazione per l'assunzione e la regolarizzazione dei collaboratori, ma anche servizi che sul territorio favoriscano l'incontro tra domanda e offerta. Il 35% delle famiglie, rileva il Censis, vorrebbe l'istituzione di registri di collaboratori per garantirne la professionalità. Il 39% vorrebbe invece che venissero create o potenziate le strutture che si occupano di reclutamento, mentre il 26% sarebbe pronto ad affidarsi totalmente a un'agenzia privata per risolvere i problemi di natura burocratica e gestionale. Le vere incognite, tuttavia, osserva il Censis, sono soprattutto di natura economica. Il welfare informale ha un costo che grava quasi interamente sui bilanci familiari. A fronte di una spesa media di 667 euro al mese, solo il 31% delle famiglie riesce a ricevere un contributo pubblico. Con una domanda crescente di protezione sociale, spiega il Censis, è indispensabile incrociare il welfare familiare con un intervento pubblico di organizzazione e razionalizzazione dei servizi alla persona, basato su vantaggi fiscali alle famiglie, che siano in grado di garantirne la sostenibilità sociale.